Il territorio e il comparto agricolo ginosino, così come quello ionico e allo stremo, a causa della siccità, stiamo assistendo a una costante assenza di pioggia e a forti ondate di calore. Ecco perché nelle scorse ore abbiamo trasmesso alla Regione Puglia e per conoscenza al Ministero delle Politiche Agricole la richiesta di attivazione del riconoscimento dello stato di calamità. Inoltre abbiamo chiesto sopralluoghi da parte dell'ufficio competente UPA di Taranto, il sindaco di Ginosa, Vito Parisi. Ormai molte colture, dagli alberi da frutto agli olivi ai vigneti, sono a grosso rischio. Infatti si teme che la produzione sia inferiore rispetto allo scorso anno per delle percentuali in alcuni casi anche superiore al 50%. Motivo per cui è necessario intervenire subito per riconoscere questo stato di emergenza ma soprattutto intervenire anche in maniera strutturale affinché la risorsa idrica non venga dispersa. Sulla vicenda nei giorni scorsi abbiamo anche evidenziato la denuncia della CIA dalla diga di San Giuliano in provincia di Matera, acqua soltanto alla Basilicata e non anche alle nostre campagne. Ma torniamo al sindaco di Ginosa. In Ginosa Marina c'è un depuratore che verrà efficientato e quindi l'acqua potrebbe essere utilizzata ma è necessario portare nuovi investimenti quindi per poter dare delle risorse agli agricoltori di cui non possono fare a meno. I danni riguardano un più ampio scenario ed abbracciano più colture, è stato detto, che sono state colpite da forti stress idrici. E' utile a questo punto che ognuno faccia fino in fondo il proprio dovere dall'acquedotto pugliese ai consorsi di tutela e di bonifica. Grazie. 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 Grazie.